In questo nostro spazio dedicato alla Green Italy abbiamo ancora due storie da raccontarvi, una a Milano e una che il nostro Roberto Tallè è andato a girare ad Ancona. Prima però torniamo con Paolo Messa, ricordiamo, consigliere del Ministro dell'Ambiente Clini, ad una informazione di carattere politico, però quella politica che diventa Green Economy. Esattamente sì, perché oggi possiamo offrire ai telespettatori di Sky una buona notizia. Il Senato ha approvato in prima lettura la conversione di un decreto legge, tutto dedicato alla materia ambientale. È un buon esempio di collaborazione fra Governo e Parlamento, perché il Ministero e la Commissione Ambiente al Senato, guidata dal senatore Antonio Dalì, hanno lavorato insieme, non solo per approvare il testo valato dal Governo, ma per ampliarlo, rafforzandolo nei contenuti. Si tratta di un testo molto positivo, innovativo, che punta alla valorizzazione, per esempio, dei rifiuti. Cito anche un esempio carino, viene consentito alle organizzazioni di volontariato di poter lavorare con anche il riciclo, chiamiamolo così, degli abiti usati, destinati alle persone più poveri, senza doverle trattare come rifiuti. E quindi è una piccola cosa, ma è molto positiva. Per esempio, si ha la possibilità adesso, con le norme che adesso passeranno all'approvazione della Camera in via definitiva, di poter trattare i prodotti della terra, anche quelli di risulta, non più come rifiuti, ma come sottoprodotto, come un valore positivo. Questo, per esempio, contiamo che possa dare benefici importanti al settore delle biomasse, per esempio. E quindi anche qui energie rinnovabili, ma che non consistono solo nella installazione di tecnologie prodotte altrove, ma tutta una filiera italiana che sa valorizzare il territorio, le bellezze raccontate anche dal materialacci nel suo libro. Allora, una sana filiera, potremmo definirla così. Mentre va la nostra domanda che vi poniamo tramite Twitter, ecco, Green Economy può essere la strada del futuro per crescere. Beh, questa notizia di taglio politico, Valeria Rossi Albertini, è una di quelle notizie che sono state, così, sulle quali si è auspicato che potessero arrivare più volte nel corso dei suoi interventi qui nel nostro pomeriggio? Certamente, questo è un segnale molto positivo che si affianca anche ai provvedimenti che sta prendendo il Ministero dell'Ambiente. Il fondo che il Ministro Clini ha annunciato si renderà disponibile dal 15 marzo di 600 milioni di euro dedicati proprio alla diffusione della Green Economy in forma di rinnovamento energetico, di efficientamento, in cui i singoli cittadini potranno usufruire. Beh, fa tutto quanto parte di un pacchetto che inizierà ad innescare il famoso volano, cioè un processo che diventerà poi inarrestabile, perché è nell'ordine delle cose che questa rivoluzione ancora silente, ancora occulta, che però è già in atto, prenderà le redini dell'economia del Paese. Noi abbiamo già tante altre volte auspicato che ci sia anche un occhio di riguardo nei confronti della ricerca, perché molto spesso, e questo va sottolineato, noi siamo utilizzatori, siamo utenti di tecnologia che acquistiamo dall'estero, quando dalla Cina, quando dalla Germania, come si diceva precedentemente. Noi saremmo in grado perfettamente di affermarci, come dimostra Ermete Realacci nel suo libro, perché tante aziende italiane sono perfettamente in grado di sostenersi con le proprie forze e di stare sul mercato e di diventare esportatori, così come noi nella ricerca, noi ricercatori e scienziati, siamo perfettamente in grado di dare i prodotti della nostra ricerca all'Italia per fare finalmente un'azione concertata, integrata, in cui il Paese possa risultare vincente nel suo complesso. Tra poco dal WWF, prima però leggiamo già i vostri tweet, arrivati, è l'unica via, lo sviluppo sostenibile sta diventando da virtù a necessità. È una strada da seguire di sicuro e ancora, parliamo sempre della Green Economy, si è diffusa ai cittadini e non accentrata e controllata, sì, si è diffusa, scusate, ai cittadini, ma non controllata dalle multinazionali. Al momento è una via apparentemente più costosa, ma nessuno può dire quanto potremmo dover spendere in futuro per l'inquinamento. Diciamo che quest'ultimo tweet è molto ottimista, perché in realtà sappiamo esattamente già ora quanto spendiamo per l'inquinamento. Certo, al peggio non c'è mai fine, invece lavora sul meglio il WWF da sempre, e questo lo possiamo dire noi panda senza timore di smentita, questo vostro rapporto, sostenibilità e valessi e mercati delle risorse primarie, numeri che fanno un po' paura nella parte critica, numeri su cui dobbiamo lavorare molto per una parte virtuosa. Ovviamente sì, si tratta di una nuova iniziativa internazionale del WWF che è stata lanciata proprio con l'obiettivo di ridurre l'impronta ecologica globale della specie umana sul pianeta, quindi il nostro peso sugli ecosistemi in generale, focalizzando in maniera specifica sui mercati internazionali che utilizzano queste risorse primarie, le commodities. Si focalizza in generale su 15 grandi commodities che riguardano prodotti forestali, quindi legno, carta, pasta carta, prodotti ittici, quindi salmone, tonno, gambero e anche ovviamente prodotti agricoli e di relative bienergie, quindi parliamo di cotone, parliamo di olio di palma, parliamo di tante altre comoditi. Questo nello specifico si focalizza su quattro principali comoditi che sono state individuate e che sono anche molto importanti soprattutto per il mercato italiano, che sono quindi il caffè, l'olio di palma, il cotone e la carta. Noi siamo il terzo importatore mondiale di caffè e il quinto importatore mondiale di carta. Numeri importanti. Allora, riciclo della cellulosa, appunto, riciclo della carta, capire dove vada a finire la carta riciclata, è una delle storie che abbiamo tratto dal libro di Ermetele Alacci. Siamo a Milano e abbiamo affidato il racconto di questa storia al nostro Francesco Magnani. Vediamo. Non è solo un dovere civico gettare la carta nel cassonetto giusto. Quel gesto banale dà un impulso essenziale ad uno dei rami più floridi della green economy italiana, quello del riciclo della cellulosa. Un settore che conta 3.500 aziende che raccolgono la carta, la macerano e la ricompattano dandole una nuova vita. Oggi occupano 50.000 addetti per un volume d'affari annuo di 14 miliardi di euro. Dal punto di vista delle materie prime, il nostro è un paese ricco ma di boschi poveri. Non produciamo cellulosa. Quindi è fondamentale raccogliere, lavorare, riciclare carte e cartoni che sono stati usati. Nella raccolta differenziata che è decollata ormai da una decina d'anni, nel nostro paese abbiamo risparmiato qualcosa come oltre 220 discariche. Quindi è territorio, è CO2 fortemente ridotta. Il consorzio Comieco ha proprio il compito di lanciare campagne di sensibilizzazione per la raccolta della carta, per offrire l'essenziale benzina verde alle imprese associate. Nel 2010 sono finite al macero quasi 4 milioni di tonnellate di carta. Sono il risultato della sempre maggiore sensibilità dei cittadini, ma anche delle buone pratiche adottate dalle aziende. Ormai 9 imballaggi su 10, infatti, sono riciclati. Ma non pensate che l'industria del riciclo della cellulosa sia limitata agli scatoloni o ai giornali. Negli ultimi tempi la carta riciclata è diventata un materiale di grande appeal in campi all'apparenza impensabili. Nel settore dell'arredo, nel settore dell'artigianato e della moda. Abbiamo cioè la possibilità di utilizzare questa carta e cartone di recupero per realizzare tavoli, sedie, sgabelli, librerie. Quindi sono settori che si stanno, seppur di nicchia, sviluppando e dimostrano che la carta, che è un elemento tradizionale della storia dell'umanità, però è un materiale molto versatile e creativo. Francesco Magnani, Sky TG24, Milano. Allora, da Milano, Comieco, ci spostiamo ad Ancona. Ci racconta questa vicenda Roberto Talley, la Revolution, un'azienda di Ancona che produce arredi per i supermercati. Ha cominciato a usare soltanto materie prime riciclate e ha battuto i costi di produzione, i prezzi finali per i clienti, uscendo indenne dalla crisi. Una mosca bianca. Andiamo a vedere. Con un chilo e mezzo di tappi di plastica si ottiene questo cestino per la spesa. Con 12 bottiglie questi separatori per gli scaffali dei supermercati. Con il nylon ricavato da 15 batterie d'auto si può produrre invece questo carrello, mentre questa panchina è stata realizzata con 15.000 lattine di alluminio. Questi distributori di detersivi, poi, sembrano di legno ma, udite udite, arrivano da un mix di sansa, ovvero quel che rimane dalla spremitura delle olive, e scarti di pannolini per bambini. Un materiale chiamato Ecomat, disponibile anche nella variante che mescola la sansa agli scarti della macinazione del caffè. Siamo ad Ancona e questa è la Revolution, azienda produttrice di arredamenti per supermercati, che ha fatto del riciclo un business. Perché green è bello, sì, ma se non c'è la convenienza economica, difficilmente può funzionare. In questo caso, invece, l'uso di materie prime riciclate consente di abbattere i costi di produzione e dunque il prezzo finale. Abbiamo un risparmio di circa il 30%, che girata al nostro cliente si riduce un pochino al 20%. Comunque sono cifre importanti di risparmio. La spinta alla conversione al green è partita proprio dalla convenienza economica, perché usare la plastica riciclata significa consumare il 90% di petrolio in meno. Si abbatte l'inquinamento dunque, ma si diventa anche indipendenti dalle quotazioni dell'oro nero. Siamo indipendenti e la nostra battaglia, che è una battaglia importante, è proprio quella di essere totalmente indipendenti dalle lobby. All'inizio, questa avventura veniva vista con diffidenza come la crociata di un illuso che voleva cambiare il mondo. Ben presto, la grande distribuzione ha capito però che il prodotto era buono, il prezzo competitivo, con il vantaggio di poter spendere con i clienti finali il valore aggiunto di essere green. Hanno potuto dare una risposta ai propri clienti dicendo che fine fanno i prodotti che noi raccogliamo. E quindi hanno visto che con i tappi si fanno i cessini, con le bottiglie si fanno separatori, sistemi di comunicazione. mobili e così via. Una svolta, quella ambientalista, che ha portato ottimi risultati, che ha permesso all'azienda di uscire praticamente indenne dalla crisi. Roberto Talley, SkyTG24, Ancona. Non so come vi sentiate voi, ma noi abbiamo la sensazione di respirare meglio questo pomeriggio, di avere un po' più di... beh, sia di respiro a livello di paese, insomma, no? Con quella punta di orgoglio che fa dire che ci si riesce a fare queste cose. Ma assolutamente sì, questo è lo spirito del libro di Relace, dello spirito che credo stia animando in maniera significativa il governo, dove peraltro si registra una sintonia forte fra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico, perché sviluppo sostenibile, lo dicono anche i tweet dei telespettatori, è l'unica via che possiamo percorrere e che possiamo percorrere con successo. E qui, come dire, per esempio, il riciclo rappresenta una frontiera economica interessantissima. Voi avete raccontato con Mieco e Revolution, adesso c'è una campagna anche molto bella e molto istruttiva che sta facendo Corepla, che è il consorzio per il riciclo della plastica, che è molto interessante. Ma noi dobbiamo lavorare puntando soprattutto sull'innovazione, che poi è la via di Revolution, l'ultimo caso che abbiamo ascoltato. Ha ragione Rossi Albertini, la scienza è il partner più importante che le imprese possono trovare e la scienza italiana è di primissimo ordine. Certo, sul trasferimento tecnologico forse dobbiamo ancora fare dei passi in avanti, però la strada è questa e il CNR, per esempio, è impegnato attualmente con Enel e studi di ingegneria italiani per innovazioni importantissime sul solare termodinamico. Io sono davvero convinto che ci sia una possibilità per l'Italia assolutamente redditizia e totalmente green, che è nel segno dei tempi e che può garantire quel futuro da qui ai prossimi 20 anni che davvero può portare risultati significativi. Su questo approfitto per ricordare il fondo Chioto, che citava Rossi Albertini, sono 600 milioni di euro a disposizione delle pubbliche amministrazioni, ma anche delle imprese e delle singole famiglie dei condomini, per fare efficienza energetica e risparmio energetico. Poi ci sono delle possibilità anche sulle fonti rinnovabili, si tratta del credito agevolato allo 0,5% e una misura che noi auspichiamo possa essere sfruttata a pieno dai cittadini italiani e così realizzare un effetto di leva economica per 1 miliardo e 200 milioni di euro. Quindi una cosa enorme che si unisce ad altre misure che si stanno realizzando. Di prossimo varo saranno contenti anche al CNR, le imprese che fanno investimenti per il futuro, un progetto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, con il MIUR, per realizzare le smart grid e smart cities. Quindi un concetto di generazione diffusa di energie e di efficienza che anche qui secondo noi potrà dare dei risultati molto positivi. Valerio Rosso Albertini. Sì, ovviamente non posso che ascoltare con grande soddisfazione e consolazione queste parole. Quello che io raccomando come rappresentante della ricerca, perché essendo uno scienziato militante l'ho sperimentato direttamente, che molto spesso questi provvedimenti, anche se incomiabili, anche se condivisibili, sono stati estemporanei. Cioè, quello che noi auspichiamo è che finalmente ci sia un processo che sia costante nel tempo. Io stesso ho avuto dei finanziamenti per lo sviluppo della tecnologia alternativa a quella tradizionale per il fotovoltaico, ma a fronte di un finanziamento che era stato dato per un certo periodo limitato di tempo, dopo non c'è stata nessuna conseguenza, non c'è stato nessun interessamento, non è stato favorito all'inserimento all'interno di una filiera produttiva e quindi sono rimaste soltanto così delle curiosità intellettuali. Mentre invece l'innesco di un processo continuativo, coerente e protratto nel tempo, quello sì potrebbe fare la differenza. Anche perché, attenzione, noi dobbiamo competere ad esempio con i paesi emergenti, con la Cina, con l'Indonesia, con il Brasile, che sono molto arrembanti, non hanno il nostro livello tecnologico, ma si stanno attrezzando. Si stanno attrezzando. Assolutamente sì, perché stanno investendo una quantità straordinaria del loro immenso pila su queste nuove tecnologie. E noi che siamo in vantaggio dobbiamo capitalizzare questo vantaggio, dobbiamo metterlo a frutto immediatamente per non essere raggiunti e superati. Allora, ancora Paolo Messe e poi subito il WWF. Una battuta rapidissima per dire che la strada è esattamente questa. Naturalmente la ricerca deve essere poi finalizzata a diventare autosufficiente rispetto ai contributi pubblici. Su questo ci sarà un caso molto positivo che sarà presentato a Roma il 15 marzo, ma non lo voglio quindi bruciare e anticipare. No, adesso ci rimane una curiosità. No, lo racconto rapidissimamente. Il Ministero e altre realtà pubbliche, il Ministero dell'Ambiente, ha dato dei contributi al Comune di Roma per realizzare dei progetti di mobilità sostenibile. I fondi sono finiti, ma il Comune di Roma va avanti con il coinvolgimento delle imprese. E quindi quello che era stato fatto con i soldi pubblici prosegue e prosegue molto bene. Questo è un esempio che sarà raccontato il 15 di marzo a Roma e che speriamo possa essere un benchmark positivo per tutti. Bene, saremo collegati insomma il 15 di marzo a raccontare anche questo. Io volevo aggiungere invece a quello che ho già sentito, che in realtà è quella che è l'ideologia del WWF che anima l'attività del WWF nell'ottica della sostenibilità e che anima un rapporto come la market transformation e che ha questa ecoefficienza assolutamente condivisibile e imprescindibile di cui abbiamo tanto parlato come ricetta per una green economy e quindi per una sostenibilità anche duratura, va aggiunta l'ecosufficienza, cioè ridurre i consumi, imparare a vivere entro i limiti biofisici dell'unico pianeta che abbiamo. Ad oggi utilizziamo molte più risorse di quelle che il pianeta ha a disposizione. Questo vuol dire non tanto finire le risorse, ma degradare gli ecosistemi e gli habitat che questi servizi, queste risorse ci mettono a disposizione. Per mutuare le parole di Mario Monti oggi, è l'unico condominio che abbiamo. Lì si parlava di condominio europeo, Italia, Spagna. Questo invece è il condominio unico, unico numero civico. Se va male questo condominio, come dire, andiamo male tutti. Andiamo a vedere i tweet che cosa dicono. La green economy è la strada per la crescita insieme ad un adeguato sviluppo della ricerca e ad una educazione alla legalità. È una strada maestra, deve essere autostrada. Bello. Volano, scusate, della crescita, risposta ad assenza di strategia energetica, diminuzione di gas serra. Andiamo ancora avanti. Non bisogna dimenticare i costi dei disastri ambientali dovuti appunto all'effetto serra. Quale miglior strumento per lo sviluppo se non una politica che si mostra sensibile all'ambiente? Dobbiamo dire che nei giorni scorsi, quando abbiamo chiesto di esprimere la vostra opinione attraverso i tweet, è venuta fuori spontanea questa idea di una green economy come economia completamente alternativa ad un'economia evidentemente con situazioni difficili e falle da sanare. Vi parliamo anche di Sky con molto orgoglio. Sky Seven Days, ecco la mostra Francesco Venuto, il nostro regista e la nostra newsletter settimanale digitale che collaborerà attivamente al rimboschimento di quattro aree verdi del nostro paese e diventerà carbon positive, ovvero contribuirà a piantare un numero di alberi superiore a quello necessario per azzerare le emissioni di CO2 legate all'invio settimanale. Ne andiamo onestamente molto orgogliosi e quindi volevamo mostrarvi anche questo. Non posso far andare via Valeria Rossi e Albertini senza aver chiesto un parere illuminato ed illuminante sulla linguaccia di Albert Einstein che oggi vale più che mai. Lo dico con grande rispetto, si è trattato di un calcolo, di un errore di calcolo ed è umano a fronte di questi neutrini che non sono più veloci della luce. E qui mi fermo, perché la mia competenza in materia si ferma qui. Beh, essendo di formazione un fisico nucleare una battuta, certo la posso fare a questo riguardo. Allora, sì, sembra effettivamente che il vecchio Einstein sia sopravvissuto anche a questo ultimo tentativo di detronizzarlo. D'altronde la teoria della relatività ormai aveva più di un secolo di vita e aveva avuto migliaia di riprove sperimentali della sua bontà e della sua solidità. però devo dire in conclusione che l'esperimento che ha fatto il gruppo italiano di ereditato è straordinario comunque. Assolutamente. Possono aver commesso anche un errore ma stanno studiando in condizioni estreme il comportamento di particelle così elusive che prima d'ora non erano mai stati osservate. È bello Rossi Albertini che quando scatena il fisico che è in lui non ce n'è per nessuno. Allora, vedete l'ultima ora in migrazione la Farnesina risponde ovviamente si analizzerà da vicino alla sentenza di Strasburgo abbiamo letto insieme la notizia questa mattina il trattamento riservato a migranti e profughi messi in salvo dice la Farnesina è stato sempre conforme agli obblighi internazionali ed informato ai fondamentali principi di salvaguardia dei diritti umani la sentenza di Strasburgo invece ovviamente era di tutt'altra opinione grazie grazie a tutti i miei ospiti Eva Alessi Paolo Messa e Valerio Rossi Albertini ci vediamo domani 14.35 puntuali come sempre grazie a tutti voi questa è Sky TG24